Allora vi ho detto che tra gli enti patrocinatori c'è anche l'Inail, l'Inail è un player fondamentale nella prevenzione, diciamo sul tema della sicurezza sul lavoro e allora do la parola al presidente dell'Inail, al professor Fabrizio D'Ascenzo. Buonasera, consentitemi innanzitutto di iniziare con dei saluti alle autorità e a tutti gli ospiti che sono intervenuti. Come duopo e accodandomi agli interventi che mi hanno preceduto vorrei anche fare dei ringraziamenti anzitutto alla Fondazione Rubestriva che per il terzo anno di seguito organizza questo importante festival, è importante da rappresentare il messaggio della cultura della sicurezza su cui tornerò molto brevemente tra poco. Quindi un ringraziamento al presidente Curcio, al direttore Molazzi e a tutta l'organizzazione della Fondazione che si è prodigata sin dall'inizio per far sì che tutto funzionasse a menadito e sono sicuro che la prosecuzione sarà nello stesso modo. Vorrei anche ringraziare il prefetto Greco che ha messo a disposizione questa bellissima sala, confesso di non essere mai stato né a Pesaro né tantomeno in prefettura, quindi è sicuramente una bellissima emozione quella di essere ospitati in una sala così rappresentativa che questa mattina abbiamo anche visitato, quindi ci sono anche state spiegate alcune particolarità di questa sala. Vorrei dedicare questi pochi, prometto, minuti di saluti facendo qualche riferimento alla carta di Urbino che abbiamo visto anche presentata in maniera anche differente, più vicina ai giovani, ieri sera nello spettacolo che c'è stato qui sotto in Piazza del Popolo e penso che sia utile fare qualche riferimento ad alcuni articoli perché sono particolarmente rappresentativi e li trovo estremamente condivisibili. Comincerei con quello che è un po' il nostro messaggio principale, ovvero sia quello del concetto della prevenzione. Il concetto della prevenzione è il cardine fondamentale per poter incidere sul fenomeno infortunistico e questo è ben esplicitato nell'articolo 4 perché dal canto nostro noi non facciamo altro che ripetere che la prevenzione si fonda su quattro assi fondamentali, la formazione, l'informazione, il supporto alle imprese e la ricerca. E tutti questi elementi sono ben rappresentati in questo contenitore del festival come avrò modo di citare nuovamente fra un po'. Altra cosa estremamente importante che vorrei mettere in evidenza ed è anche questa una cosa su cui noi insistiamo molto è il concetto di collaborazione. Il concetto di collaborazione che emerge da tanti articoli, faccio riferimento in particolare all'articolo 8 ma la collaborazione veramente permea tutto il dispositivo della carta. La collaborazione vuol dire lavorare tutti insieme per un fine comune che è appunto quello di cercare di incidere sul fenomeno degli infortuni e cercare ovviamente di mitigare i numeri che purtroppo si alternano momento per momento e che dobbiamo necessariamente tenere in considerazione. Altro concetto fondamentale e questo viene molto ben esplicitato nell'ultimo articolo, nell'articolo 10, è quello della salute e la sicurezza come concetti che riguardano l'intera collettività. Intera collettività vuol dire coinvolgere lavoratori e lavoratrici, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, istituzioni, tutti coloro che sono ben rappresentati all'interno di questa sala. E quindi il concetto che noi riprendiamo volentieri come INAIL è quello di una collaborazione partecipativa per cercare di lavorare tutti insieme per ottenere questo risultato che abbiamo già esplicitato più volte e che cerchiamo sempre di rendere attuale ogni volta che noi come INAIL abbiamo la possibilità di fare qualche intervento. Concludo dicendo che manifestazioni come queste sicuramente esplicitano nella maniera migliore questo concetto di collaborazione partecipativa. E quindi come INAIL noi siamo ben lieti anche quest'anno di aver fornito il nostro patrocinio e anche negli anni a venire sicuramente ritorneremo volentieri a supportare queste manifestazioni perché contribuiscono veramente a far passare su tutti questo concetto di prevenzione e cultura della sicurezza che come abbiamo ben ascoltato agli interventi che mi hanno preceduto sono gli elementi essenziali per far sì che si possa veramente ridurre questo fenomeno degli infortuni. Vi ringrazio molto.